Il treno regionale, 63-36, di Trenitalia, delle ore 5, per Bologna Centrale, è in partenza dal binario 1. Ferma Silla, Riola, Vergato, Pioppe di Salvaro, Marzabotto, Lama di Reno, Sasso Marconi, Borgo Nuovo, Casalecchio di Reno, Bologna Borgo Panigale. Il treno regionale, 63-73, di Trenitalia, delle ore 6.55, per Pistoia, è in partenza dal binario 1. Ferma a Ponte della Venturina, Molino del Pallone, Viagioni Legaci, Pracchia, San Momè, Castagno, Corbezzi, Pistoia Ovest. Il treno regionale, 63-90, di Trenitalia, delle ore 20.16, proveniente da Pistoia, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 63-93, di Trenitalia, delle ore 23.14, proveniente da Bologna Centrale, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.